Benvenuti a questo nuovo incontro. Giovanni, raccontaci la tua storia. Se mi bastassero due foto su internet per non pagare un'agenzia, mi sono rivolto a mio cugino che fa il muratore, è di casa se ne intende, al commercialista, a un amico che ha un bar in centro e conosce un sacco di persone. E voi? Io non ho più pace, le persone mi chiamano a tutte le ore del giorno, anche mentre sono al lavoro e con domande assurde e pretese ridiche. Non parlare degli appuntamenti, arrivano in ritardo senza non lo scusarsi. E poi cominciano con le solide storie che il prezzo della casa è alto, lo dovrei abbassare. Basta! Grazie anche a voi per aver condiviso con noi il vostro dolore. Alessandra, e tu? Io sono felicissimo, mi sono affidato all'agenzia Verona. Hanno fatto tutto l'oro, la valutazione ai massimi valori di mercato, mi hanno aiutato con l'attestato energetico e si sono occupati di tutte le pratiche legali, fiscali, burocratiche. Hanno acquistato spazi premium sui portali internet specializzati e hanno accompagnato persone molto interessate. Insomma, sono bravissimi, precisi, professionali, preparati e anche simpatici. E voi che aspettate? Affidatevi all'agenzia Verona!